buongiorno 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 amati da dio dio vi benedica voglio fare un video questo giorno lo voglio postare anche su youtube quindi faccio una diretta magari provvisoriamente per i miei amici di facebook ma poi lo voglio mettere su youtube questo video più che un video di insegnamento è delle piccole dritte e delle piccole piccoli insegnamenti che voglio darvi in base a voglio parlarvi un attimo di matrimonio no matrimonio civile e matrimonio religioso quando dico matrimonio religioso intendo dire un matrimonio che è fatto in chiesa davanti a un ministro di culto che si può fare nel nome di gesù per cui quello che sto per dire potrebbe anche fare rizzare i capelli a qualcuno potrebbe suonare qualcosa di molto strano però vi dico una cosa intanto saluto a tutti buongiorno per le dirette buongiorno pastore buongiorno a giovanna maio studente della scuola biblica angelo atria simbola guglielmo quindi questo mio video voglio spiegarvi che esistono si possono fare due tipi di matrimonio uno davanti allo stato quindi matrimonio civile io essendo un ministro di culto ho l'autorizzazione dal ministero degli interni per sposare le persone legalmente davanti allo stato ma c'è anche un altro matrimonio che quello più importante diciamo quello davanti a dio perché quello civile quindi davanti allo stato è un matrimonio statale è tipo un contratto quando tutti compri una macchina fai un contratto con tutte le clausole eccetera quello davanti a dio fatto davanti a un ministro di dio fatto davanti alla chiesa quel matrimonio quel matrimonio è invece quello da andare a un ministro di dio della chiesa è proprio il matrimonio davanti al signore quello è un patto non è un contratto come quello che si fa davanti allo stato che è giusto che si fa attenzione però quello è più che un contratto infatti quando io faccio il contratto di matrimonio è proprio un contratto e due si mettono d'accordo per poter per poter adempiere quelle cose legali il matrimonio invece che si fa in chiesa davanti a un ministro di dio quello è un patto non è un contratto il contratto può scadere ma un patto no qualcuno potrà rompere il patto se vuole però non è consigliabile rompere il patto matrimoniale ma quello che voglio dire è è che alcuni 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 uomini di dio fanno l'errore l'errore in questa maniera per esempio se c'è una sorella vedova che percepisce una pensione e campi e campa di quella pensione se si sposa legalmente perderà la sua pensione e tanti uomini di dio hanno sbagliato perché alcune sorelle o anche fratelli hanno detto pastore sposaci tu davanti a dio in un modo tale che magari noi non perdiamo quel piccolo reddito quella piccola pensione che per te magari potrebbe essere una questione di fede o non fede e prima la pensavo pure io così dico ma che fa tu non hai fede eccetera eccetera quindi tu preferisci la pensione piuttosto che piuttosto che sposarti allora allora io ho capito una cosa molto importante ho capito una cosa molto importante negli anni negli anni ho capito una cosa molto importante che il vero matrimonio non è quello contrattuale davanti allo stato ma quello davanti a dio quello è il patto matrimoniale per cui da quel giorno in poi io ho sposato persone solitamente attenzione attenzione solitamente io sposo davanti a dio in un modo religioso e in un modo civile davanti allo stato però ci sono delle dei casi ci sono delle situazioni ci sono delle necessità che un pastore deve capire che può sposarli davanti a dio anche senza davanti allo stato e lo stesso quelle un matrimonio cioè quella una convivenza no è un matrimonio davanti a dio davanti alla chiesa davanti agli uomini per cui col senno di poi io ora sposo persone solitamente parto come base davanti a dio e davanti agli uomini civile e religioso però se ci sono casi dove ci sono persone divorziate eccetera eccetera che sono divorziati però sposarsi significa magari perdere qualcosa insomma ci sono delle situazioni un po' incarbugliate allora io non ho problemi a sposare quelle persone davanti al signore perché cari i matrimoni biblici erano fatti davanti a dio sperimenti quello di quelli o quelli israeliti che la nostra base diciamo che lì dalla cultura ebraica la cultura biblica hanno trovato delle ricevute di matrimonio quindi archeologie quant'altro hanno trovato queste ricevute di matrimonio dove i rabbini li sposavano e li archiviamo nella chiesa io tuttora ho fatto dei matrimoni solo religiosi non civili quindi non davanti allo stato e lo stesso io faccio un certificato e li archivio nella mia chiesa sì pastore però così si possono posso posso lasciarsi quando vogliono perché in un modo legale non possono lasciarsi quando vogliono poi poi se la vedono con dio perché quello è un patto tra dio tra dio e la persona davanti alla chiesa quindi la testimonianza della chiesa quindi gli si spiega che è un vero e proprio matrimonio quello davanti a dio è il vero matrimonio non quello davanti allo stato che è necessario in certi casi si può fare e si deve fare ma ci sono situazioni dove è meglio evitare quello civile perché magari perdi la pensione perdi il diritto a certe cose perché stiamo perdendo certe cose perché si deve perdere certi diritti perché dopo tanti sacrifici una pensione o quant'altro perché poi ti sposa a livello civile perdi quella pensione perché dobbiamo perdere perché why in inglese varum in tedesco perché in siciliano per cui cari e cari ministri cari pastori smettetela di crocifiggere persone facendogli perdere la pensione facendo di perdere certi diritti perché se non non sono non sono benedetti davanti al signore ma chi l'ha detto ma perché prima c'erano prima c'erano i matrimoni civili i matrimoni prima erano fatti solo davanti al signore davanti a un ministro di dio quello che dio ha unito l'uomo non separi il prima a celebrare il matrimonio fu il signore il primo dio è stato il primo testimone di un matrimonio davanti ad amedeva e i due dice diventeranno una sola carne non è bene che l'uomo sia solo gli farò un aiuto convenevole il primo testimone fra questi due era dio per cui il matrimonio è fatto davanti a dio quello è il massimo il più importante matrimonio che c'è quello civile quello civile è un contratto il contratto scade ma il patto no spero che con queste poche parole abbiate avete capito avete capito cosa voglio ripeto per conferma per le persone strane che io celebro il matrimonio civile e religioso ma ci sono certi casi dove io celebro il matrimonio solo ed esclusivamente davanti a dio che quello più importante ed è un vero matrimonio ed è il vero matrimonio quindi ho sposato dei ragazzi l'altra volta in germania perché nessuno li voleva sposare perché non potevano sposarsi per varie situazioni che non posso spiegare non potevano sposarsi quindi bisogna vagliare caso su caso se non c'è se non c'è diciamo se non sono problemi io li sposo civili in modo civile e in un modo religioso ma in base a certi casi quindi vagliare caso per caso quindi vagliare caso per caso bisogna applicare il giusto la giusta il giusto matrimonio quindi questo è un breve insegnamento che ho avuto questo giorno in un motale passata dei pastori che a volte sono un po' testardi perché pensano che non è un matrimonio davanti a dio ma forse perché non hanno il coraggio di andare contro quello che si è sempre fatto ma dobbiamo fare anche le cose che abbiamo capito più che le cose semplicemente che abbiamo fatto nel passato quindi non vivere a ritroso vai avanti vai avanti il vero matrimonio è quello davanti a dio però ripeto io continuo a sposare in un modo civile e in un modo religioso ok ma in certi casi bisogna agire con la saggezza di dio quello che può essere quello che può essere quello che può essere quello che può essere medicina per uno può essere veleno per l'altro quindi una medicina a uno gli può salvare la vita la stessa medicina data un'altra persona che non ha bisogno l'ammazza è così con i matrimoni ci sono i matrimoni che bisogna farli solo ed esclusivamente davanti a dio davanti a un ministro di dio diversamente ci sono casi e situazioni dove il matrimonio si deve fare davanti a dio e davanti allo stato con questo dio i benedica guglielmo dio ti benedica anche a te salutioni anche ad anciolati a sei un dono pastore peccato che sono lontano guarda con inter te siamo vicini geremia 23 23 sono so forse non parlando di me stesso ma parlando di dio di dio di sé sono forse solo un dio da lontano da vicino e non dio da lontano quindi anche da lontano possiamo comunicare un abbraccio a tutti